In questo video leggeremo un articolo del matematico Kenono dedicato al grande genio matematico indiano Strini Vastramanujan. L'articolo l'abbiamo tradotto in italiano e si intitola le ultime parole di un genio. Incredibilmente nonostante le sue condizioni Ramanujan trascorse il suo ultimo anno lavorando sulla matematica in isolamento nonostante tutto il dolore e la febbre. Ramanujan sdraiato a letto con la testa appoggiata sui cuscini continuò a lavorare. Quando gli serviva Yanaghi gli dava la sua lavagna, più tardi raccoglieva i fogli accumulati di carta ricoperta di matematica e li metteva nella grande scatola di pelle che lui aveva portato dall'Inghilterra. Yanaghi avrebbe poi ricordato questi ultimi giorni. Era solo pelle e spesso si lamentava di forti dolori. Nonostante ciò era sempre impegnato a fare la sua matematica. Quattro giorni prima di morire stava scarabocchiando. In un'ultima lettera fatale ad Ardi, la data 12 gennaio 1920, Ramanujan condivise accenni della sua ultima teoria. Mi dispiace molto di non averti scritto. Ho scoperto di recente delle funzioni molto interessanti che chiamo funzioni teta finte o ingannevoli. Entro nella matematica in modo altrettanto bello delle normali funzioni teta. Ti mando con questa lettera alcuni esempi. Questa misteriosa lettera ha dato il via a una grande avventura. La ricerca per comprendere il significato dietro queste ultime parole è poi di sotterrare le implicazioni di questa comprensione. Queste parole hanno esposto in un territorio inesplorato del mondo della matematica un cancello di legno chiuso con un lucchetto, oltre il quale c'era la promessa di tesori matematici sconosciuti. La lettera di circa quattro pagine tattiloscritte è composta da formule per 17 strane serie di potenze e una discussione sulla loro forma sintotica e sul comportamento vicino al confine, al bordo, del disco unitario. Non ci sono dimostrazioni di alcun tipo. Ramanujan ha anche raggruppato queste serie in base al loro ordine, un termine che non ha definito. Come esempio tipico ha fornito la seguente serie che ha chiamato una funzione teta finta o ingannevole di terzo ordine. Poi ha affermato miracolosamente che si ha questa importante relazione. A di F ovviamente la manujan sapeva molto di più di quanto ha rivelato. Watson fu il primo matematica ad accettare la sfida. Lavorò per anni e il 14 novembre 1935 in una riunione della London Mathematical Society celebra il suo pensionamento da presidente della società con il suo ormai famoso discorso. Non è naturale che l'approccio alla preparazione di tale discorso di commiata abbia assunto la forma di un'indagine sulla procedura dei miei predecessori in una situazione simile. Tuttavia sono stato dissuaso da questa strada. L'ultima lettera di Ramanujan è l'argomento che ho scelto. Dubito che si possa trovare un titolo più adatto di quello usato da Watson per quello che immaginava essere la sua ultima memoria su Sherlock Holmes. Watson scelse il titolo The Final Problem. An account of the mocteta fans. Il problema finale. Proseguì descrivendo le sue scoperte un miscuglio di identità e formula. Utilizzando serie per geometri q riformulò gli esempi di Ramanujan. Per f di q dimostrò la seguente relazione. Dimostrò anche identità che collegano le funzioni teta fittizie agli integrali di Mordel. Come la seguente. Concluso e affidando la ricerca alla prossima generazione di matematici. La scoperta di Ramanujan delle funzioni teta fittizie rende ovvio che la sua abilità e ingegnosità non lo abbandonarono all'avvicinarsi della sua prematura fine. Per i suoi studenti tali scoperte saranno fonte di gioia e meraviglia fino a quando non giungerà il momento in cui anche noi faremo il nostro viaggio verso quel giardino di Proserpino. I matematici continuano alla ricerca. Verso la fine degli anni trenta Adles Helberg, studente di scuola superiore, pubblicò i suoi primi due articoli matematici sull'argomento. Negli anni cinquanta e sessanta George Aereo Andrews e Dragonet utilizzarono i risultati di Watson. Confermarono finalmente la forma sintotica dichiarata da Ramanujan 1.2. Quindi confermarono la forma sintotica dichiarata da Ramanujan 1.2. Molti matematici tra cui Bruce Berndt, Choi, Gordon e McIntosh progredirono uniformemente e ulteriormente lungo le linee stabilite da Watson. Dopo molti calcoli tecnici che si estendono per pagine, questi matematici patronizzarono la forma sintotica degli esempi di Ramanujan, accumularono identità come la 1.3 che abbiamo visto prima e ottennero trasformazioni analitiche che collegavano questi esempi a integrali come 1.4. Questo. I matematici ora avevano affermato, avevano afferrato il lucchetto che chiudeva il cancello di legno, ma non conoscevano ancora il significato dietro le ultime parole di Ramanujan. I matematici avevano raccolto una scatola piena di formule, ma ci sarebbero stati pochi progressi per i successivi dieci anni. Nella primavera del 1976, mentre cercava tra i documenti archiviati della tenuta di Watson nella biblioteca del Trinity College, verso l'Università di Cambridge, Andrews scoprì quaderno perduto. Il quaderno, composto da oltre 100 pagine delle ultime opere di Ramanujan, era archiviato in una scatola tra vari documenti, raccolti dalla tenuta di Watson. Il quaderno e altri materiali furono scoperti tra le carte di Watson dal dottor Whitaker che scrisse l'elogio funebre del professor Watson per la Royal Society. Passò i documenti al professor Rankin dell'Università di Glasgow che nel dicembre del 1968 li offrì al Trinity College in modo che potessero unirsi agli altri monoscritti di Ramanujan. Yanaghi presumibilmente invia ad Ardi la grande scatola di pelle, quella piena degli ultimi documenti di Ramanujan. Ardi la passò a sua volta a Watson. Sebbene non sia mai stato veramente perso, il fascio di documenti era sopravvissuto a lungo viaggio dall'India, solo per poi giacere, dimenticato, nella biblioteca del Trinity College. Il viaggio fu davvero straordinario, perché il manoscritto andò quasi incontro a una fine catastrofica. Whitaker, figlio del famoso coautore di Watson, E.T. Whitaker, ricordò in una lettera a George Enthus, trattata 15 agosto 1979, la scena dello studio di Watson al momento della sua morte nel 1965. Le carte ricoprivano il pavimento di una stanza di discrete dimensioni, sino a una profondità di circumpiede, tutte ammucchiate insieme, e sarebbero state incenerite in pochi giorni. Si potevano fare solo immersioni fortunate nelle macerie, e poiché Watson non buttava mai via nulla, il risultato poteva essere un foglio di matematica, ma più probabilmente una fattura guetanzata o una bozza della sua dichiarazione dei redditi per il 1923. Per uno straordinario colpo di fortuna, una delle mie immersioni fece emergere il materiale di Ramanujan. Il quaderno perduto consentiva ai matematici di sfuggire alla palude apparentemente eterna. Oltre a elencare alcune nuove funzioni teta fittizie, lo scarabocchio conteneva molti indizi preziosi, identità e relazioni sorprendenti, registrate senza dimostrazioni di alcun tipo. Grazie a questi indizi, i matematici hanno trovato molte applicazioni per le funzioni teta fittizie, funzioni L nella teoria dei numeri, funzioni ipergeometriche, partizioni, teorie di Lie, forme modulari, fisica e chimica dei polimeri, per citarne alcune. Il quaderno perduto ha in particolare consegnato nuovi tipi di identità che, come vedremo, continuano a svolgere un ruolo cruciale nella ricerca. Andrews ha dimostrato identità che collegano le funzioni teta fittizie a forme quadratiche binarie indefinite. Ad esempio ha dimostrato la seguente formula. Hickerson ha confermato identità in cui le somme delle funzioni teta fittizie sono prodotti infiniti. Ad esempio, per f0 di q e la funzione teta fittizia phi capital q, ha dimostrato la seguente relazione. Poiché forme quadratiche binarie indefinite e prodotti infiniti compaiono nella teoria delle forme modulari, queste identità hanno finalmente fornito prove che collegano le funzioni teta fittizie alle forme modulari, le funzioni teta ordinarie dell'ultima lettera di Ramanujan. Una forma modulare è una funzione olomorfa sul piano compresso della metà superiore H che è addomesticata dalle trasformazioni di Morbius. in parole povere una forma modulare di peso K su un sottogruppo gamma SL2Z è una funzione olomorfa di questo tipo che soddisfa questa formula per tutti i gamma appartenenti a gamma ed è meromorfo alle cuspidi. Nonostante queste prove, l'essenza della teoria di Ramanujan continuava a sfuggire ai matematici. Il problema era che il quaderno perduto è semplicemente un falso di pagine che contiene oltre 600 formule matematiche elencate una dopo l'altra senza dimostrazione. Ci sono solo poche parole sparse qua e là. Invece di fornire la chiave mancante, il quaderno forniva un martello sotto forma di innumerevoli identità. Così armati i matematici sfondavano il pancetto di legno solo per trovare un lungo corridoio polveroso fiancheggiato da posti di ferro chiuso al chiave. Quando la polvere si fu depositata, riuscirono a leggere i cartelli sulle porte e con questa conoscenza compresero finalmente l'ampia portata delle funzioni teta fittizie. Alla Ramanujan Centenary Conference del 1987, Freeman Dyson riassunse eloquentemente il dilemma. Le funzioni teta fittizie ci danno accenni allettanti di una grande sintesi ancora da scoprire. In qualche modo dovrebbe essere possibile costruirle in una struttura coerente di teorie dei gruppi, analoga alla struttura di forme modulari che Eck costruì attorno alle vecchie funzioni teta di Giacobbe. Questa rimane una sfida per il futuro. Il sogno è di vivere abbastanza lungo per vedere i giorni in cui i nostri giovani fisici che lottano per far corrispondere le previsioni della teorie delle superstringhe con i fatti della natura, saranno, dicevo, portate ad ampliare il loro apparato analitico per includere le funzioni teta fittizie. Ben solo finiti negli anni 90 erano stati fatti pochi provesse. Poi nel 2002, in una brillante tesi di dottorato scritta sotto la guida di Don Zeiger, Zwergers ha dato un senso alle funzioni teta fittizie. Comprendendo il significato dietro identità come la 1315 ed utilizzando in modo particolare i lavori precedenti di Trash e Mordel ha trovato la risposta. Forme modulari analitiche reali. Nella soluzione si devono prima completare le funzioni teta fittizie aggiungendo una funzione non-olomorfo, un cosiddetto integrale di periodo. Per le funzioni teta fittizie di f di q d'acqua, un cosiddetto integrale di periodo. nella soluzione si devono prima completare le funzioni theta fittizie aggiungendo una funzione non olomorfa un cosiddetto integrale di periodo per le funzioni theta fittizie f di q avremo la seguente relazione e Dregers ha definito la funzione theta fittizie al valore vettoriale qui q uguale a e elevato a 2 pi greco im tau f di tau è uguale a tutto questo quindi la funzione theta fittizie al valore vettoriale è la seguente f di tau quindi usando le funzioni theta g con 0 di z, g con 1 di z e g con 2 di z dove g con 0 di z è uguale alla seguente relazione g con 1 z e g con 2 z sono simili ha definito la funzione non olomorfa a valore vettoriale che sarebbe la seguente ho completato f di tau per ottenere h di tau tale che è uguale f di tau meno g di tau e ha dimostrato che h tau più 1 cioè ha dimostrato le seguenti relazioni 1 e 2 dove la z di n è uguale a e elevato a 2 pi greco i fratto n e abbiamo anche quest'altra questo fornisce una versione vettoriale dell'equazione 1,6 quindi la funzione theta fittizie a valore vettoriale f di tau è la parte olomorfa della forma modulare analitica reale a valore vettoriale h di tau generalizzando identità come la 1,3 in cui le funzioni theta fittizie sono correlate alle serie di app e l'est zwegers ha anche prodotto infinite famiglie di funzioni theta fittizie che ecclissano la lista di Ramanujan ma come lo facciamo io generalizzando identità come 1,3 in cui le funzioni theta fittizie sono correlate alle serie di app e l'est zwegers ha anche prodotto infinite famiglie di funzioni theta fittizie che ecclissano la lista di Ramanujan o meglio la 1,9 grazie mille grazie mille quindi zwegers ha anche prodotto infinite famiglie di funzioni theta fittizie che ecclissano la lista di Ramanujan quindi zwegers ha anche prodotto infinite famiglie di funzioni theta fittizie che ecclissano la lista di Ramanujan per questa e questa e questa ha definito tale funzione dove abbiamo questa e quest'altra relazione utilizzando una funzione R u meno nu tau che assomiglia alle componenti di 1,8 ha quindi definito la seguente relazione ha dimostrato che questa è una forma di Giacobbi non olomorfa una funzione le cui specializzazioni nei punti di torsione danno peso un mezzo alle forme modulari analitiche reali questa funzione soddisfa le trasformazioni che implicano 1,6 per queste specializzazioni ad esempio se abbiamo questa relazione allora esiste una radice esplicita di unità per cui abbiamo questa relazione armati della tesi fondamentale di zwegers i matematici hanno iniziato a esplorare i mondi dietro le porte di ferro qui prendiamo un esame alcune delle scoperte che questo autore ha ottenuto con i suoi collaboratori le funzioni teta fittizie risultano essere parti olomorfe di distinte forme modulari analitiche reali le forme armoniche di mass che sono state recentemente introdotte da Brunner e da Fang in parole povere una forma armonica di massa di peso k è una funzione regolare di questo tipo che soddisfa 1,6 e delta k di m uguale 0 che è anche al massimo crescita esponenziale lineare alle cuspide qui l'aplaciano iperbolico delta k dove tau uguale x più i y appartenente ad h con x y appartenente ad r è dato dalla seguente formula le espansioni di Fourier di queste forme sono state oggetto delle nostre esplorazioni in termini di funzione gamma incompleta in questa come questa formula ogni forma armonica di mass e m tau di peso 2 meno k dove k è maggiore di 1 ha un'espansione della seguente forma ovviamente m tau si decompone naturalmente in due parti una parte olomorfa e il suo complemento la parte non olomorfa la parte non olomorfa le funzioni delta fittizia e la funzione mu di triggers danno parte olomorfa di forme armoniche di mass di peso 1,5 le forme armoniche di mass sono generalizzazioni di forme modulare una forma modulare una forma armonica di mass m tau dove m meno tau uguale 0 poiché le forme modulare appaiono in modo prominente in matematica ci si aspetta quindi che le funzioni theta fittizia e le forme armoniche di massa abbiano implicazioni di vasta portata le nostre prime incursioni nel lungo corridoio polveroso sono state profigue e abbiamo ottenuto risultati su una vasta gamma di argomenti partizioni q serie motion invarianti di nonaldson prodotti di borchers e curve littiche tra gli altri ora descriviamo alcuni di questi risultati partizioni una partizione di un intero non negativo n e una qualsiasi sequenza non crescente di interi positivi la cui somma è n se p con n denota il numero di partizioni di n allora Ramanujan ha notoriamente dimostrato che ad esempio nel tentativo di fornire una spiegazione combinatoria di queste congruenze Dyson ha definito il rango di una partizione come la sua parte più grande meno il numero delle sue parti ad esempio la tabella seguente includi i ranghi delle partizioni di 4 sulla base della numerica Dyson ha formulato la seguente congettura la cui verità fornisce una spiegazione combinatoria delle congruenze di Ramanujan modulo 5 e 7 le partizioni le partizioni di 5 n più 4 7 n più 5 formano 5 7 gruppi di uguale dimensione quando ordinati in base ai loro ranghi modulo 5 rispetto a 7 nel 1954 Atkin e Swinerton Dyer hanno dimostrato la congettura di Dyson esiste ora una sola teoria delle congruenze di partizione modulo ogni intero m' a 6 e le congruenze tipiche assomigliano più a questa relazione ci si chiede naturalmente quale ruolo se ce n'è uno giocano le ipotesi originali di Dyson all'interno di questa teoria Brinkman e l'autore hanno indagato questa questione e nel loro lavoro hanno correlato n, r, t, n il numero di partizioni di n con rango congruente ad r modulo t alle forme armoniche di mass hanno essenzialmente dimostrato che questa formula è la parte olomorfa di una forma armonica di mass di peso un mezzo questo risultato combinato con la teoria di Shimura delle forme modulare di peso semi-integrali e la teoria di Deligne-Serre delle rappresentazioni di Galois implica che i ranghi spiegano infinite classi di congruenze e abbiamo il seguente teorema Monshine alla fine degli anni 70 McKay e Thompson osservano che i primi coefficienti della funzione modulare ellittica classica che è la seguente sono certe combinazioni lineari delle dimensioni delle rappresentazioni riducibili del gruppo master ad esempio i gradi delle quattro rappresentazioni riducibili più piccole sono 1 196 883 21 2 9 6 8 7 6 8 4 2 6 6 9 3 2 6 0 9 3 6 0 9 3 2 6 8 7 6 8 8 6 4 2 9 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 842-609-326 più 21-296-876 più 2 per 196-883 più 2 per 1. Convai e Norton hanno ampliato queste osservazioni e hanno formulato una serie di congetture profonde, le cosiddette congetture di Monster Moshai. Queste congetture sono state ora risolte grazie al lavoro di molti autori, in particolare Borscherz. Esiste una bellissima teoria che coinvolge la teoria delle stringhe, le algebre degli operatori di vertice e le superalgebre di Kack Moody, generalizzate, in cui vengono rivelate le connessioni tra oggetti come la funzione Gen e il Monster. Negli anni Ottanta, nello spirito di Moshai, Kack e Peterson hanno stabilito la modularità di caratteri simili che emerge nello studio delle algebre di Lie a fini di dimensione infinita. Come generalizzazione di questo lavoro, dieci anni fa, Kack e Wakimoto calcolarono i caratteri delle superalgebre di Lie a fini questa e questa. Questi caratteri non sono modulari e Kack chiese se potrebbero essere correlati a forme armoniche di massa. Brinkman e l'autore hanno confermato questa speculazione. Questi caratteri sono pezzi di funzioni modulari non olomorfe. Consideriamo il carattere per i moduli seguente, dove questo è il modulo irriducibile con il peso più alto. Se M è maggiore o uguale a 2 e S è appartenente a Z, allora il lavoro di Kack e Wakimoto implica la seguente relazione. dove abbiamo questa e questa, che è la funzione eta di Detekin. Utilizzando la funzione R in 1.10, Brinkman e l'autore hanno definito la funzione la seguente funzione e hanno dimostrato che la seguente formula è, fino alla potenza di Q, una funzione theta fittizia. Di conseguenza hanno dimostrato il seguente teorema. In un recente lavoro con Malmendier si dimostra che la funzione theta fittizia la seguente funzione theta fittizia è un invariante topologico per questa affermazione riguarda la topologia differenziabile delle quadri varietà. All'inizio degli anni 80 Donaldson ha dimostrato che la classe di diffeomorfismo di una quadri varietà X compatta semplicemente connessa e differenziabile non è necessariamente determinata dalla sua forma di intersezione. Nel suo lavoro ha definito in modo famoso gli invarianti di Donaldson invarianti di diffeomorfismo di X ottenuti come polinomi omogenei graduati sull'anello di omologia con quesce cinti interi. Ci sono due famiglie di invarianti corrispondenti alle teorie di Gorge, SU2 e SU3. L'autore e Malmendier hanno considerato il caso SU3 per la varietà più semplice il piano proiettivo complesso cp al quadrato con la metrica Fubini-Stati. Gli invarianti sono difficili da elaborare anche in questo caso. In effetti non furono calcolati fino al lavoro di Gotske nel 1996 assumendo la congettura di Kotschik Morgan. Gotske, Nakajima e Yoshoka hanno recentemente confermato questa descrizione provvisoria della funzione Z di Donaldson. A metà degli anni 90 Moore e Witten hanno ipotizzato formule di integrali U-plane per questa funzione Z. Il loro lavoro si basa sulle seguenti identificazioni. Qui la superficie ellittica razionale è la curva universale per il gruppo modulare gamma 0,4 che può essere identificato con cp elevato a 1 meno 3 punti con fibre singolari. Inoltre la superficie ellittica razionale è dotata di una marcatura analitica tale che le fibre generiche corrispondono a curve ellittiche che sono parametrizzate da reticoli C omega tau omega nel modo usuale. Quindi la funzione Z-U-plane è data come un integrale regolarizzato con questo tipo di relazione. Qui delta è il discriminante delle corrispondenti curve ellittiche e T segnato e definito dal flusso di rinormalizzazione sulla superficie ellittica. La concettura di Moore-Witten in questo caso è che ci sia questa relazione. Utilizzando 2,16 cioè questa L'autore Malmendier hanno riformulato questa concettura in termini di forme armoniche di mass derivanti da m di q e hanno quindi utilizzato la funzione Muti-Zueggers per dimostrare il seguente teorema. Prodotti di Borchers Recentemente Borchers ha fornito una descrizione sorprendente per gli esponenti nell'espansione del prodotto infinito di molte forme modulari con un diviso di Hegner. Ha dimostrato che gli esponenti in queste espansioni sono coefficienti di forme modulari di peso un mezzo. Ad esempio la serie classica di Einstein e 4 tau si fattorizza in tale maniera. 2C piccolo con n sono i coefficienti b n al quadrato di una forma modulare meno amorfa di peso un mezzo. Abbiamo inoltre la seguente formula per G tau. Bruni e l'autore hanno generalizzato questo fenomeno per consentire esponenti che sono coefficienti di forme armoniche di massa di peso un mezzo. Per brevità forniamo esempi di prodotti di Borchers generalizzati che derivano dalle funzioni θ f di q e ω di q. a tal fine sia u minore di d definito come 23 modulo 24 privo di quadrati e per G compresa da 0 e 11. sia questo se e con alfa è uguale a e elevato a 2 piccolo in alfa e meno d fratto meno d fratto b è il simbolo del residuo quadratico di Giacobbi di Kronec Kronecker quindi definiamo questa relazione utilizzando utilizzando questa funzione razionale definiamo quindi il prodotto di Borchers generalizzando psi d di tau tramite la seguente sommatoria produttoria Gli esponenti provengono da 2.17 ed M è la classe Gli esponenti provengono dall'equazione 2.17 ed M è la classe residua di M modulo 12 questo schema ha un'interessante conseguenza per la parità della funzione di partizione si sa molto poco di questa parità in effetti non si sapeva nemmeno che p con n ha effetti infiniti numeri pari e valori dispari fino a 1959 utilizzando il teorema 2.4 e il fatto che f di q l'autore ha dimostrato il seguente risultato per i numeri di partizione valutati ai valori di certi polinomi quadratici funzioni l delle curve ellittiche se e fratto q è una curva ellittica allora e di q i suoi punti q razionali formano un gruppo abeliano finitamente generato la concettura di birch e win son dier uno dei problemi del premio del millennio del millennio clai prevede 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 che sia valda questa relazione dove l e s la funzione l di as rail per e non esiste una procedura nota per calcolare questo e determinare quando si ha la seguente di suguaglianza per curve ellittiche una famiglia di torsioni quadratiche che richiede già teoremi profondi di quenon waldsburg e di gross e zucker questi risultati tuttavia implicano criteri molto diversi per dedurre il comportamento analitico a s uguale uno utilizzando prodotti di boschers generalizzati brin e l'autore hanno prodotto un singolo dispositivo che comprende questi criteri presentiamo un caso speciale di questi risultati supponiamo che abbia un conduttore e supponiamo inoltre che il segno dell'equazione fungerale di l e di s sia meno u se delta è un discriminante fondamentale di un campo quadratico allora sia e con delta la curva ellittica di torsione quadratica che la seguente utilizzando forme armoniche di masse i loro prodotti di boschers generalizzati l'autore Brunier mostrano che i coefficienti di certe forme armoniche di masse codificano la scomparsa delle derivate centrali delle funzioni L per le curve ellittiche e presenocondelta e quindi abbiamo il seguente teorema come abbiamo visto la lettera di Ramanujan in punto di morte ha dato il via un avventura implausibile il cui primo atto è ormai terminato riguardava la teoria delle forme armoniche di masse e le sue implicazioni per molti argomenti partizioni e serie q motion invarianti di donaldson fisica matematica prodotti di borchett e funzioni L di curve ellittiche per citarne alcune questa teoria ha fornito risposte soddisfacenti alle prime sfide comprende il significato dietro le ultime parole di Ramanujan e realizzare l'aspettativa che questa comprensione avrebbe rivelata e aperto nuove porte nel mondo interconnesso della matematica ogni passo lungo il cammino ha evocato meraviglia la lettera enigmatica il quaderno perduto e il lavoro di molte mente se passate alla mappa stradale per il futuro allora i atti ancora non scritti promettono ingussioni da parte di intrepiti matematici di oggi e di domani in nuovi mondi attualmente popolati da verità matematiche apparentemente israggiungibili queste che vedete sono le pagine le cinque pagine dell'ultima lettera di Ramanujan da E questo è per quanto riguarda l'ultime parole di un genio, traduzione italiana nostra dell'articolo inglese del matematico Kenono, che parla dell'ultima lettera di Ramanujan Adardi, dove si descrivono, non ancora completamente, le funzioni moch, le funzioni theta fittizie, le moch theta fancy, le quali si è visto come sono importanti e in matematica e in molti settori della fisica, chimica, cosmologia, anche uno studio dei buchi neri e anche uno studio della teoria delle stringhe. Una matematica quindi, che può essere benissimo, usata quale linguaggio per ottenere un modello matematico coerente che possa unificare le interazioni fisiche fondamentali, perlomeno dal punto di vista eminentemente matematico. Quindi la matematica di Ramanujan, vista come una matematica che unifica e il mondo matematico e la natura, quindi l'universo, microcosmo e macrocosmo. Grazie per l'attenzione, buona serata, al prossimo video. Grazie.